Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per mal tempo la strada regionale 429 Vecchia è attualmente chiusa nel comune di Castelfiorentino, città metropolitana di Firenze, nella zona industriale di Malacoda. Sono attivi i percorsi alternativi per i mezzi leggeri, ma risulta interdetta al traffico dei mezzi pesanti. Per i treni, a seguito della segnalazione di alert del sistema di monitoraggio dei movimenti franosi, la circolazione dei treni oggi sarà sospesa sulla linea Faentina nella tratta tra Marradia e Faenza. Sempre per i treni per allagamento della sede ferroviaria, circolazione sospesa sulla linea Bologna-Pistoia tra Casalecchio, Garibaldi e Sassomarconi. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!